ciao ragazzi e bentornati a questa nuova lezione oggi iniziamo un nuovo capitolo dedicato al colore in after effects e anche se abbiamo parlato in maniera marginale durante le lezioni dedicate al chroma key ora approfondiremo alcuni suoi aspetti che un videomaker deve conoscere partendo dal principio abbiamo imparato che i colori a schermo di una qualsiasi immagine vengono rappresentati attraverso i canali rgb che stanno per red green e blu rosso verde e blu mentre la trasparenza è rappresentata dal canale alfa che abbiamo imparato a identificare nel monitor da questa rappresentazione a scacchi bianchi e grigi richiamata la palette info dal menu finestra che ho già inserito qui lateralmente possiamo controllare i valori dei canali e trasparenza della nostra composizione l'unità di misura con la quale ci vengono rilasciate queste informazioni nel momento che con il puntatore del mouse passiamo sopra l'immagine è rappresentata da dei numeri che variano in base alla profondità del colore e se ci portiamo nel menu laterale della palette vediamo che di default abbiamo la visualizzazione di questi dati impostata su automatico significa che se lavoriamo a un progetto 8 bpc acronimo di bit per canale l'unità di misura verrà identificata con una numerazione che va da 0 a 255 come nel nostro caso e se volessimo cambiare profondità di bit per canale ci basterà cliccare sulla casella di riferimento nella finestra di progetto oppure all'interno della piccola icona colorata dei canali presente nella parte inferiore del monitor cliccando su imposta spazio di lavoro progetto in entrambi i casi si aprirà una finestra di dialogo nella sezione specifica per il colore e da questo menu cambiare la profondità del canale che se portata 16 bpc i valori numerici andranno da 0 a 32 768 e se impostiamo una profondità a 32 bit per canale avremo una numerazione decimale ovvero 0,0000 a 1,0000 in tutti e tre i casi il primo numero indica la mancanza di un colore il secondo numero un colore pieno mentre i numeri intermedi che si trovano tra questi due valori corrispondono alle varie tonalità possiamo scegliere quale unità di misura da visualizzare dal menu della palette attraverso queste voci specifiche oppure più semplicemente cliccando sulla casella dei bit nella finestra di progetto tenendo premuto il tasto alt per passare alle varie profondità quindi se ora con il mio progetto 8 bit per canale mi porto sulla lettera r con il puntatore le informazioni che ci vengono rilasciate sono che avremo un colore pieno del rosso identificabile da un valore di 255 mentre avremo mancanza di verde blu motivo per cui i valori sono a zero e il canale alfa che ha un'opacità totale per via del rosso pieno con un valore di 255 stesso concetto se andiamo sulla lettera del green dove avremo un valore pieno di 255 sia sul canale verde che su quello alfa mentre un valore a zero sul rosso e sul blu così succede anche per la lettera del blu mentre per la lettera a del canale alfa avremo la mancanza di colore su tutti e tre i canali del rosso verde e blu che saranno a valore zero e il canale alfa essendo una lettera trasparente non avrà un'opacità ovvero un colore pieno pertanto il suo valore starà a zero per capire ancora meglio i canali rgb ci portiamo su questa composizione dove vediamo parecchi colori diversi e se ci portiamo sulla foglia rossa sopra il maglione vedete che non è un rosso pieno altrimenti avremmo avuto un valore di 255 sul canale del red e notiamo che è contaminato da un po di verde e di blu motivo per cui abbiamo tutta una serie di valori su tutti e tre i canali che insieme vanno a generare questa tonalità così come se ci portiamo su questo blu piuttosto acceso che non ha un colore pieno del suo rispettivo canale ma è contaminato da un po del verde e quasi nulla del rosso così come se ci portiamo sulla zona verde della foglia in basso non abbiamo un colore pieno del green a 255 ma un valore un po più basso contaminato da un po di rosso e un blu praticamente inesistente e in tutti e tre gli esempi essendoci un colore non avremo mai una trasparenza motivo per cui il canale alfa risulta sempre a 255 all'interno del menu della palette info possiamo anche scegliere di visualizzare l'unità di misura dei canali in percentuale oppure attraverso il codice dei colori web e ancora nella modalità hsb che sta per you saturation e brightness tonalità saturazione e luminosità in pratica la differenza tra le varie profondità 8 16 32 bit per canale sta nella quantità di informazioni che ci vengono restituite maggiore la profondità di bit per canale e maggiore sarà la qualità e fedeltà del colore originale e di conseguenza maggiore sarà la quantità dei dati e maggiore sarà il tempo di elaborazione capito come leggere i colori attraverso la palette delle info ci spostiamo sulla finestra del controllo colore che possiamo richiamare selezionando la lettera r e dalla palette del carattere cliccare sul riquadro rosso per aprirla a schermo dove ritroviamo le informazioni del colore attraverso dei numeri e valori all'interno abbiamo il gruppo dei canali rgb e quello per la tonalità saturazione e luminosità in questo momento con un rosso pieno a 255 abbiamo il piccolo cursore circolare nell'angolo in basso a destra che sappiamo poter spostare con il mouse su tutta la tavoletta per cambiare colore ma possiamo modificarlo anche attraverso i parametri dei due gruppi potremmo aggiungere valori di verde e blu attraverso i canali rgb oppure interagire sulla tonalità che è rappresentata in gradi che sposterà il cursore verso gli angoli più lontani in senso anti orario passando per varie tonalità per arrivare a 360 gradi con lo stesso valore di partenza di 255 sul rosso oppure interagire sulla saturazione che metterà in movimento la barra verticale per passare attraverso sfumatore del colore che vanno da un rosso pieno fino a raggiungere il bianco e infine alla luminosità che se abbassata sposterà il cursore attraverso rossi più scuri fino ad arrivare ad un nero totale la combinazione di tutti questi valori andrà a generare il codice numerico utilizzato sul web chiamato esa decimale per cui se trovate questi codici sul web vi basterà copiarli e incollarli direttamente qui per ottenere un colore specifico e a tal proposito vi segnalo questo sito oltre a quello ufficiale di adobe utile per cimentarvi nella ricerca abbinamenti di colori che si chiama design punto ai che potete tradurre in italiano tramite il browser dove all'interno della categoria utensili è presente la sezione color matcher con una serie di tavole contenenti abbinamenti di colore mentre dal menu laterale abbiamo vari strumenti come la ruota per cercare colori specifici un menu del testo per vedere l'abbinamento di un testo colorato su uno sfondo colorato poi c'è la sovrapposizione che ci permette di vedere il risultato di un'immagine con un colore specifico applicato con il metodo di fusione sovrapponi poi abbiamo la pendenza che ci mette a disposizione una sfumatura che va da due colori specifici il classico gradiente e ancora il contrasto dove cliccando sul più possiamo aprire una palette dei colori e muovendo il cursore trovare tonalità di colori che ci rilascia immediatamente il valore esadecimale che possiamo copiare e incollare sul nostro after effects e ancora abbiamo l'estrattore per ricavare i dati esadecimali di un colore da un'immagine trascinandola qua dentro e infine la sezione dei significati del colore davvero interessante perché cliccando su un colore per esempio prendiamo il cremisi non solo avremo una descrizione letteraria che associa questa tonalità a stati d'animo o utilizzi svariati ma avremo tutte le informazioni tecniche e sulla sinistra palette con abbinamenti di colori complementari analoghi sfumature dove basterà cliccare sulla piccola ruota colorata per ottenere i codici di ognuno quindi un valido strumento che può essere un alleato con il vostro lavoro sia di grafica che di videomaking bene ragazzi per questa prima lezione sul colore è tutto e ci vediamo al prossimo episodio ciao